1 a 14 Cantagalli ecco Topoli ora Cantagalli intercetta Lander Gore ora a palleggiare Blanchet poi Swerver Bernardi, Topoli arriva Zorzi, non riesce a chiudere intercetta ancora in difesa Lander Gore Blanchet fa giocare in attacco Swerver è buono, grande muro per un altro palleggiatore che festeggia con un giro di campo ancora occasione per l'Italia ancora un'occasione per salire nuovamente sul setto del mondo ancora un pallone per dire che abbiamo fatto una doppietta come la grande Unione Sovietica unica a vincere due campionati del mondo consecutivamente Cantagalli siamo campioni del mondo siamo ancora una volta campioni del mondo siamo campioni del mondo e questa è una generazione di fenomeni è una vera generazione di fenomeni